benvenuti sul canale amici io sono denis oggi vi racconto cosa portano lo zaino quando vado in escursione con la famiglia per una giornata con moglie e figli oggi sono sulle alpi a confine tra veneto e trentino non sono riuscito a girare mentre ero in escursione nei giorni scorsi oggi ho cercato di trovare un posto una location un po bellina però non sono troppo distante dalla strada sfortunatamente quindi è possibile che sentiate un po di rumori ora mettiamo a terra lo zaino e vediamo un attimo cosa io ho messo dentro allora qui davanti a me ho steso quello che porto nello zaino e a fianco ho gli zaini della piccola e della moglie tutti noi abbiamo una parte di equipaggiamento che è comune per tutti ed è composta dall'abbigliamento quindi giacca impermeabile e antivento il guscio strato isolante quindi un buon pile maglietta di ricambio un cappello caldo bandana sempre nell' equipaggiamento comune che tutti noi abbiamo c'è poi il fischietto coperta esotermica quindi ognuno di noi ne ha una lampada frontale stesso discorso e bere mia moglie ha questa borraccia la bimba preferisce il camelback io ho borraccia gavetta e coperchio in più non di rado porto una seconda borraccia e ma perché dai tanto sugli alpi è pieno d'acqua verissimo sfortunatamente l'altro giorno eravamo in escursione quindi tanta acqua però ormai è stata tante persone tanti con i cani tu vedi un bel ruscelletto un bel rigolo dici caspita adesso riempio la borraccia e mentre stai per farlo ci passa il cane ci è passato prima nel torrente più grosso nelle zone secche c'è sterco degli animali quindi non è il massimo io con me non ho ancora un filtro che voglio in futuro acquistare quindi preferisco portarmi due borracce d'acqua anche perché moglie e bimba bevono abbastanza almeno c'è la riserva la gavetta unitamente al fornelletto in questo caso fornelletto a meta ma potrebbe essere anche un fornelletto a gas qualche bustina di tè e qualche bustina di zucchero mi consente in caso di necessità di scaldare una bevanda calda per rintemprarsi e per contrastare l'abbassamento della temperatura e l'eventuale ipotermia parte di equipaggiamento che ha solo mia moglie è il solare non scordatelo mai io non ne avevo me ne ero scordato quando ho fatto il video sullo zaino dell'escursione della domenica è importantissimo perché d'estate ci si prende delle scottature micidiali possono arrivare anche a livello d'ustione quindi non scordate mai il solare e poi il materiale per l'igiene quindi fastolettini, salviette umide, sacchettini in cui puoi mettere lo sporco, il rifiuto ed eventualmente se ci sono ovviamente donne e ragazze che fanno parte della comitiva qualche assorbente in più non fa mai male per la navigazione ho cellulare con sopra l'applicazione comut di cui ho parlato in un precedente video la bussola e la carta topografica si scarica il cellulare se sappiamo usare la carta e la bussola ci togliamo sempre dai guai quando viaggio da solo mi piace usare carta e bussola perché è sempre un buon allenamento quando sono con la moglie onestamente non riesco a fare perché è tempo che mi fermo a consultare la carta la moglie si mette a sbuffare quindi preferisco andare molto più rapidamente, celermente con l'applicazione sapendo però che carta e bussola le ho sempre dietro con me sempre nelle tasche troviamo il letterman e un accendino il letterman è l'unico coltello che mi porto solitamente, l'unica lama quando vado in escursione non vado a fare bushcraft, non vado a esercitarmi nel survival mi faccio bastare il letterman e anche in caso di necessità sono confidente che con esso potrò superare le avversità che mi si presenteranno il cellulare fa parte anche del kit comunicazioni comunicazioni, quindi per il cellulare abbiamo anche il power bank con il cavo e porto con me due PMR PRM, PMR, PRM perché? Perché spesso sia la bimba che il figlio hanno un passo più veloce talvolta si distanziano e quindi preferisco darne una loro una la teniamo io e la mamma e quindi siamo sempre in contatto e questo ci fa stare più tranquilli dove siete? Papà siamo al bivio, ok fermatevi, aspettateci le comunicazioni strettamente necessarie anche per non intasare i canali oltretutto non avendo ancora potuto acquistare l'inrich comunicatore satellitare che voglio acquistare in futuro il PMR mi consente sui canali 816 di effettuare delle richieste di emergenza che possono essere recepite dalla rete radio montana quindi a mio avviso può essere utile in caso di problemi ci sia la necessità di realizzare uno shelter o un tarp 3x3 cordami in abbondanza e i picchetti qua siamo abbastanza in alto voi magari non vedete alle mie spalle ma già poche decine di metri sopra di me si aprono i pascoli e di alberi non ce ne sono più se il maltempo ci prende in quei luoghi non abbiamo la possibilità di metterci a realizzare i picchetti perché alberi e rami non ce ne sono e quindi è necessario averli già pronti allo stesso modo ci vengono comodi i bastoncini telescopici per essere utilizzati come sostegni per il nostro shelter al di là di questo i bastoncini telescopici mi trovo molto bene sia in salita che in discesa mi aiutano a evitare di gravare eccessivamente sulle articolazioni recentemente vi ho parlato di due pezzi di equipaggiamento la EV Duty Emergency Blanket e lo Swagman Roll non li avevo mai avuti solitamente non li portavo da quando li ho acquistati ho detto caspita hai fatto una recensione l'unboxing chiamiamola come vogliamo vediamo quanto effettivamente ci sono utili quanto effettivamente ci capiterà di utilizzarli e quindi me li sono messi nello zaino per vedere se li userò o meno e quanto possano essere efficaci arriviamo in quota oggi il tempo è nettamente peggiore degli altri giorni fa freddo non bastano la maglietta asciutta il paio e la giacca a tener caldo moglie e figlia bene, le avvolgo anche nello Swagman Roll la situazione peggiora ulteriormente ognuno di noi ha anche la coperta isotermica in cui avvolgersi qua in Trentino c'è un gran parlare di zecco ultimamente ma non solo qui anche in Toscana in Toscana come ha visto magari chi mi segue su Instagram ma anche su YouTube le ho prese più di una volta quindi preferisco portarmi lo spray anti zecche anche se obiettivamente i due anni precedenti ma anche quest'anno qua in vacanza a Trentino non l'abbiamo mai presa abbiamo poi il kit di primo soccorso è enorme questo ne convengo però diciamo che mi piace avere tutto quello che può servirmi quando sono in escursione in particolare quando sono con la famiglia preferisco avere più pezzi di ogni tipologia garze, cerotti e quant'altro perché siamo in tanti potrebbe capitare che non si caschi uno solo ma ci si faccia magari male in due ed è necessario utilizzarlo ma dai ma non serve a niente è eccessivo proprio ieri abbiamo fatto l'escursione da Mar Gacciapela al rifugio Friel al ritorno avevamo ormai raggiunto il nastro d'asfalto che ce ne puoi nella parte bassa che passa anche per il campeggio arriviamo giù sei sull'asfalto ti rilassi mia moglie cosa fa? cade con le ginocchia sull'asfalto pieno di ghiaietto e il ghiaietto le apre il ginocchio una bella apertura a V un'apertura più piccola a fianco mi metto a pulire con le pezzuole disinfettanti e mi sono accorto che dentro l'apertura dentro il buco più piccolo c'era qualcosa ho dovuto prendere le pinzette e infilandole dentro la ferita ho tirato fuori una pietra che era la punta del mignolo era davvero grande quindi poi disinfettato pulito bene messo sopra una garza a copertura del tutto pensiamo se fosse caduta se fosse fatta male dai dammo una pulita con l'acqua dai tutto a posto scendiamo giù poi inizia a coagulare quando arrivi giù un po' coagulato non vuoi toglierlo per evitare che ricominci a sanguinare non ti accorgi che dentro c'è la pietra ed è un guaio quindi secondo me non dovrebbe mai mancare ed essere composto da quello che le nostre competenze quello che abbiamo imparato ci permette di usare nulla di più di quello che sappiamo usare tutto quanto finisce nello zaino può rimanere asciutto sia perché è inserito dentro sacchetti di plastica sia perché gli zaini hanno il loro propri zaino impermeabile come in questo caso quello della bimba o quello della moglie che ce l'ha qua sopra il mio zaino lo zaino che mi hanno prestato e che sto testando lo zaino large molle 2 non è impermeabile e allora ho con me una copertura per coprirlo in caso di pioggia ma cosa ti serve la copertura se tanto hai tutto già avvolto nei sacchetti di nylon vero per quella che è stata la mia esperienza sia in Irlanda che in Scozia quando piove ha dirotto lo zaino comunque se non è una copertura esterna si infradicia quando poi arrivi nel bivacco torni a casa acqua che perde a tutte le parti sul pavimento al contrario se anche hai solo la copertura esterna e il materiale dentro non è avvolto in dry sack in sacchetti di plastica quando piove davvero tanto l'acqua che passa tra collo e zaino infradicerà comunque lo schienale dello zaino e penetrerà a bagnare il materiale che portiamo dentro quindi mio gusto personale preferisco avere tutto avvolto nei sacchetti e avere una copertura esterna se mi sta se non pesa troppo i sacchetti dell'immondizia di quelli grandi possono anche all'occorrenza essere utilizzati per fare una copertura per il terreno nel momento in cui ho deciso di fare un bivacco o se ho scordato il poncio o non il tarp essere loro stessi utilizzati per questa funzione oltre a quanto abbiamo visto qui in tasca cosa abbiamo ancora abbiamo le due componenti di quello che è il mio kit di emergenza minimale quello che metto sempre nello zaino se vado a fare camminate veloci o nelle tasche dei pantaloni e che ho già esaminato in un apposito video e il lacciuolo dal collo con fischietto breaking light e il moschettone multiuso recensito in un altro video a volte lo porto al collo a volte mi dà fastidio perché sudo troppo balla troppo perché magari non ho la camicia semplicemente finisce nelle tasche con tutto il resto siamo in Trentino c'è stato negli ultimi mesi molto allarme per la questione orsi da noi in Toscana dove cammino usualmente problematiche simili ci sono per quanto riguarda il lupo in Italia come sappiamo non c'è in vendita lo spray anti orso e io porto questa una Guardian Angel 2 che spara gel all'olio di capsicum al peperoncino uno spera di non averne mai ovviamente necessità ci sono delle linee guida da seguire come comportamento se si viene avvicinato se si entra a contatto sia con l'orso che con il lupo non è perché sia questo che aspetta lo innondo di peperoncino no prima seguiamo le linee guida questo strumento rimane veramente come in altri casi l'ultima l'ultima alternativa se arriviamo a usare questo è perché siamo sicuramente così vicini che tutte le linee guida che ci sono state spiegate dal personale forestale dagli esperti in zoologia e quant'altro non hanno funzionato in questo video ho voluto mostrarvi cosa porto con me quando vado in escursione con la famiglia qualcuno dirà che è sicuramente tanto materiale probabilmente troppo materiale sostanzialmente preferisco avere con me quanto mi serve per far superare al meglio anche psicologicamente l'eventuale imprevisto spero che il video sia stato di vostro interesse vi sia piaciuto se così è stato mettete il like condividetelo se volete rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni iscrivetevi al canale clic sulla campanella alla prossima grazie a tutti i nostri spettatori